Siamo qui con Flavio Tranquillo, voce del basket di Sky Sport, voce del basket anche a questo europeo 2015, una nazionale fra le più complete, fra le più profonde, fra le più lunghe che l'Italia abbia mai avuto. È lecito a tendersi almeno alla qualificazione alle Olimpiade? No, non credo che sia lecito a tendersi qualcosa alla luce dei nomi che sono sul roster. È lecito incuriosirsi molto ed è lecito pensare che ci siano le condizioni necessarie ma non sufficienti sulla carta per fare qualsiasi risultato. Però la carta e il campo, e aggiungo per fortuna con molti punti esclamativi, sono due cose diverse. Invece, sempre parlando di nazionale, la sensazione che si ha guardando il roster e appunto vedendo la sua profondità è comunque che manchi un giocatore che sia il vero leader di questa nazionale. Chi potrà esserlo in realtà? Il discorso del leader è un discorso senz'altro importante ma molto complesso. L'esperienza insegna che il leader non è necessariamente quello che fa all'ultimo tiro, non è necessariamente quello che fa più punti, non è necessariamente quello che prende lo stipendio più alto o che ha più presenze in nazionale. E ci sono anche squadre che tutto sommato non hanno avuto un vero leader. Se io penso per esempio ai Detroit Pistols del 2004, di certo c'erano tanti giocatori con caratteristiche di leadership ma non mi sentirei di dire che Wallace fosse un leader eppure aveva grande leadership, non mi sentirei di dire che Bezos fosse un leader eppure aveva grande leadership eppure hanno vinto. Ci sono tanti modi di fare le cose per fortuna, è vero che non si profila un leader però siccome non lo si può eleggere per decreto o qualcuno decide di diventarlo sul campo perché decide lui o perché lo decidono gli altri per lui oppure si fa senza. A proposito dei Detroit Pistols passiamo all'NBA, il caso che ha tenuto banco quest'estate è stato il caso di Andre Jordan. Prima aveva dato parola con i Dallas Mavericks, poi in realtà ha deciso di tornare a Los Angeles. Una opinione su questo argomento? Io dico sempre che le scelte professionali non si discutono, si registrano e basta. Quindi anche due scelte professionali confliggenti come queste, dal punto di vista di Andre Jordan io non mi sento di dire niente. Capisco che per usare un eufemismo a Dallas ci siano rimasti molto molto male, capisco che lui si è messo tanta pressione addosso però ha fatto una cosa dentro alle regole, è un ragionamento diverso pensare, ipotizzare che cosa cambierà dopo questo perché io credo che automaticamente cambierà e cambierà molto perché una cosa del genere che non si riteneva possibile è successa comunque lascia una parte lesa sul campo e quindi credo che in un mondo in cui le parti lesa tendono a farsi sentire come quello dell'NBA qualche cosa cambierà. Pressione di Andre Jordan, pressione di LeBron James. C'è la sinistra tendenza quando la squadra di LeBron vince a dire che gliel'hanno costruita apposta e quando perde è colpa di LeBron James. Un'opinione invece in merito a questo? Mi fa ridere questo modo di procedere con il massimo rispetto, ognuno dice e pensa le cose che vuole dire e pensare però la squadra di LeBron James, non so che cosa voglia dire, non so che cosa voglia dire Chicago Bulls di Waiters, Daily, la buonanima di Orlando Wurridge eccetera erano la squadra di Jordan e ad arrivare a 35 vittorie facevano fatica non esattamente perché Jordan fosse scarso semplicemente perché che piaccia o meno, e spero che piaccia, questo è un gioco di squadra quindi prendere il risultato della squadra di LeBron James e se non è arrivata prima dire ecco lo vedi lo sapevo LeBron James sono uno che arriva prima è un'operazione talmente dozzinale che non credo meriti troppi commenti grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti